Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile, anche quest'anno vogliamo dare il giusto spazio alla giornata dell'udito che si è svolta a Roma al Ministero della Salute e che anche quest'anno è stata organizzata dalla ONLUS abruzzese Non Ascoltami Udito Italia, che di fatto ha colmato, riempito una lacuna che in questo campo esisteva da sempre a livello nazionale. Noi siamo stati con una truppa a Roma al Ministero della Salute per questo evento, abbiamo realizzato tante immagini, abbiamo realizzato diverse interviste che vi vogliamo proporre nel corso di questa trasmissione e ne vogliamo parlare con colui che ha ideato questa manifestazione, questa lodevole manifestazione. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al dottor Mauro Menzietti. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Grazie a lei, il dottor Mauro Menzietti, fondatore di Non Ascoltami Udito Italia, ma anche un'altra carica di Valenza Nazionale perché è il presidente nazionale dell'ANA, che è l'Associazione Nazionale Audio-Protesisti. Allora, intanto possono anche partire le immagini che abbiamo realizzato a Roma, bilancio di questa giornata dell'Udito nazionale che c'è stata al Ministero della Salute a Roma come sempre agli inizi di marzo? Bene, il bilancio naturalmente è estremamente positivo perché i numeri crescono ogni anno, la partecipazione di tutti i protagonisti del mondo dell'Udito e non solo perché è una rete, una trama che si allarga di anno in anno. Questa era la quarta edizione, abbiamo avuto una partecipazione veramente numerosa e quello che poi portiamo a Ginevra è un manifesto che rappresenta un'immagine di un'Italia veramente virtuosa in questo campo perché l'orgoglio non è solo abruzzese ma è veramente nazionale e italiano. Riusciamo a riunire i massimi esperti nella sede istituzionale nel Tempio della Salute e riusciamo ad attirare l'attenzione su un senso troppo spesso trascurato che appunto da Ginevra viene attenzionato al massimo a livello mondiale e che in Italia viene raccolto appunto l'invito e sicuramente viene realizzata una manifestazione di altissimo livello sia scientifico che sociale. Ecco perché al termine della giornata il risultato che verrà inserito nel report mondiale delle iniziative appunto di tutto il globo su questa patologia così trascurata, l'Italia brilla, l'Italia fa bella figura, l'Italia dimostra di saperci fare. Abbiamo visto al tavolo dei relatori la giornata è stata moderata dal noto giornalista scientifico Luciano Onner, abbiamo visto anche la presidente della Onlus, non ascoltami, udito Italia, Valentina Fariscelli. Giornata dell'udito che si è svolta in concomitanza con il World Year Day organizzato proprio dall'OMS. Sì, la necessità appunto è quella di attirare l'attenzione, di cercare di disseminare consapevolezza, informare il più possibile perché il messaggio di quest'anno è proprio controlla il tuo udito, sembra banale doverlo ricordare eppure questo è il primo gesto per acquisire consapevolezza. Il controllo dell'udito, l'abbiamo detto tante volte anche in questa serie, è un gesto semplice, sembra banale ma in realtà è proprio il primo passo per capire, per concentrarsi, per cominciare a dedicarsi al proprio udito. Si svolge in pochi minuti, consiste nell'appoggiare delle cuffie, ascoltare dei suoni e rispondere ad un operatore che ci chiede se abbiamo sentito il suono oppure no, quindi è indolore, è semplicissimo, eppure è fondamentale perché ci dà la fotografia del nostro udito, ci fa capire in che modo sentiamo e in che modo il problema di udito può appunto essere invalidante, può impattare sulla nostra vita sociale, quindi l'OMS ci richiama all'ordine, fate i controlli dell'udito, ci dà delle indicazioni ben precise. E voi avete recepito questo richiamo all'ordine dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, diciamo anche che c'è stata una novità importante nell'ultimo anno, anno è qualcosa, diciamo così, perché vi siete trasformati in onlus come nonno ascoltami udito Italia. Sì, la struttura giuridica, la forma giuridica della onlus è quella necessaria per poter affrontare battaglie come queste, perché in termini di credibilità, ma in termini anche di organizzazione e di accessibilità, tutta una serie di opportunità, ad esempio poter fare anche un evento all'interno del Ministero con tutti i patrocini possibili, perché partiamo dall'OMS, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio dei Ministri, c'è veramente la possibilità di accedere ai livelli più alti dal punto di vista sia istituzionale che scientifico, quindi la onlus era assolutamente necessaria. La nostra Presidente Valentina Paricelli che salutiamo e ringraziamo e c'è tutta un'organizzazione di volontari che ogni giorno lavorano per portare il nostro messaggio il più lontano possibile. Torniamo a Roma, al Ministero della Salute, parola d'ordine di questo evento prevenzione. Noi abbiamo voluto fare una sorta di sondaggio su scala nazionale per vedere come viene applicata nelle varie regioni la prevenzione nel campo dei disturbi dell'udito e quindi abbiamo avvicinato e intervistato diversi specialisti del Nord Italia, del Centro Italia e del Sud Italia. Volutamente quest'anno abbiamo voluto bypassare l'Abruzzo perché in occasione della campagna di prevenzione Nonno Ascoltami che si svolge ogni anno ad ottobre, realizziamo sempre trasmissioni e speciali su questo evento. Abbiamo voluto proprio tastare, monitorare su scala nazionale come viene fatta la prevenzione un po' in giro per l'Italia. Se la regia è d'accordo io partirei dal Nord, dal Trentino e al nostro microfono abbiamo il dottor Giuseppe Nicolò Frau che è il direttore dell'Otorino Laringoiatria dell'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. In corso di questi anni abbiamo visto una maggiore attenzione e sensibilizzazione e questa ci è arrivato in modo indiretto attraverso per esempio la richiesta da parte di organizzazioni eccetera, di incontri per una maggiore sensibilizzazione. Sicuramente sul fronte dei problemi uditivi nell'anziano in particolare perché sempre più sta arrivando anche a livello della consapevolezza generale come l'udito, contrariamente ad altri sensi, sia un senso che coinvolge di più il cervello, la mente. Essendo il mezzo principale per l'interazione sociale, per l'apprendimento e per lo stare con gli altri, questo concetto sta iniziando a prendere fatto. Poi il fatto di avere comunque incontri in piazza sfatta pian pianino quel mito del deficit uditivo come qualcosa da tenere nascosto. Già chi si mette in fila per un esame odiometrico dimostra agli altri di non vergognarsi di questo fatto, del sospetto di avere un calo di timo. Per il Centro Italia invece abbiamo fatto tappa in Umbria, abbiamo intervistato ben due specialisti, il dottor Santino Rizzo che è il direttore della clinica otorino-laringoiatrica e patologia cervico-facciale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e il professor Gianpietro Ricci che è il direttore della clinica odontoiatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Devo dire che c'è stato, noi sono due anni che lo stiamo facendo nella nostra città, cioè a Terni, già nel primo anno c'è stata una fortissima adesione a questa campagna e ancora di più lo abbiamo avuto nel secondo anno. Il problema della sordità nella nostra città è particolarmente sentito perché per le condizioni ambientali e lavorative c'è un tasso di popolazione che ha questo problema dell'ipacusia. In più ci dobbiamo aggiungere le condizioni generali, cioè l'invecchiamento, l'uso indiscriminato di questi apparecchietti che vengono sottovalutati specialmente dai giovani. Ma non solo, gli ambienti dove vanno a passare le serate, dove ci sono, loro dicono che sono dei suoni ma secondo me sono dei rumori e i danni sono fortissimi. Il messaggio nella nostra città è stato accolto benissimo e questo lo abbiamo potuto constatare anche successivamente perché c'è stato un ulteriore incremento di richiesta di essere sottoposta ai controlli. Quindi il messaggio di non ascoltami ha veramente dato una mano e continuerà a dare una mano a questa bellissima iniziativa e a questa problematica molto molto importante. Brava non ascoltami che ha saputo lavorare e sta lavorando veramente alla grande per estendere più possibile questo messaggio. Per certi aspetti vi siete sostituiti al nostro servizio sanitario nazionale. Diciamo quello che è e quindi questo è un vostro merito che deve essere sottolineato e vi deve fare sentire orgogliosi. Guardi, io non posso darle dei dati ufficiali perché non sono stati condotti studi e quindi non abbiamo studi scientifici. Però la percezione è sicuramente sì. Noi vediamo nei nostri muratori un sempre maggiore afflusso di persone di una certa età che chiedono ausili protesici, anche impianti cocleari. Come ne sa l'impianto cocleare è un orecchio elettronico che richiede anche un intervento di un certo rilievo per la sua applicazione e noi abbiamo persone che ce lo chiedono anche di età molto avanzata, 80, 83, 85 anni, 90 anni. Quindi secondo me la percezione è che sicuramente c'è una sempre maggiore attenzione ai problemi dell'udito e una volontà di risolverlo. Ultima tappa Sud Italia, siamo stati idealmente in Puglia. Anche qui il nostro microfono ha due specialisti, il dottor Paolo Petrone, direttore medico di primo livello di Otorino Laringoiatria dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, il professor Nicola Quaranta che è il direttore dell'Otorino Laringoiatria Universitaria del Policlinico di Bari. La risposta è assolutamente buona, è questo perché la piazza fa da elemento aggregatore non soltanto per il paziente che ha una patologia in atto, ma anche per chi accompagna il paziente e problemi dell'udito non ne ha. Questo significa che la prevenzione non si realizza solo sul paziente, ma anche su chi non ha un problema di salute e quindi per il futuro può salvaguardare un organo così fragile, così prezioso come l'udito. Sembra di sì, perché negli ultimi anni il numero di persone che si rivolgono in piazza durante queste iniziative di screening di massa sta aumentando e soprattutto sta aumentando l'interesse da parte dei parenti, perché spesso non sono tanto le persone affette che si rendono conto del problema quanto i loro parenti, i loro figli piuttosto che i nipoti che li convincono a sottoporsi a una valutazione uditiva. In Puglia in generale devo dire che i numeri stanno crescendo, ma stanno crescendo anche le piazze, per cui sicuramente è un'iniziativa che si sta allargando e secondo me sta creando un maggior interesse da parte della popolazione. E quindi mi sembra di capire che la sensibilizzazione verso la prevenzione sta prendendo piede un po' in tutta Italia, attorno dal mio ospite, il dottor Mauro Menzietti. Sicuramente stiamo facendo un ottimo lavoro e a furia di parlarne, a furia di andare nelle piazze in dieci anni di attività, secondo me abbiamo creato veramente un germe di nuova cultura dell'udito, nuova cultura della prevenzione perché poi vediamo anche negli anni che le stesse persone si fissano l'appuntamento di tornare sotto la tenda a ricontrollare l'udito e questa se vediamo anche le indicazioni proprio dell'OMS, questa è una buona abitudine di salute che sicuramente abbiamo generato e creato e con l'aiuto di tutti riusciremo a fare ancora meglio. Senta, i disturbi dell'udito ormai rappresentano un problema sociale, abbiamo qualche numero dell'ipoacusia in Italia e quanto incidono sul nostro sistema sanitario, sul servizio sanitario nazionale? I numeri sono allarmanti, sono destinati a crescere perché gli anziani nel numero delle persone esposte al problema è destinato ad aumentare ma soprattutto anche i giovani che sono così come dire hanno il loro udito danneggiato dal rumore, dall'esposizione al rumore, dalle cuffiette anche quel numero è destinato ad aumentare, ecco perché sui numeri possiamo dire solamente che è una vera e propria epidemia di massa che non ci darà tregua. Quanto all'impatto sociale capiamo benissimo che un bambino che non sente ha una grande difficoltà di inserimento scolastico ma ancora prima di acquisizione del linguaggio, quindi avrà bisogno dell'insegnante di sostegno, avrà bisogno di protesi acustiche, di logopedia e di un supporto che è anche molto costoso e gli adulti, immaginiamo gli adulti esposti ai rumori, tra l'altro qui apro e chiudo una parentesi, ancora oggi si vedono lavoratori che non usano dispositivi di protezione individuale mentre magari rompono un marciapiede con il loro motopicco, queste cose sono veramente da anni 50 se vogliamo e anche lì una persona che non sente bene non è produttiva, rischia la depressione, rischia di subire il confronto con un lavoratore analogo che magari fa la stessa cosa però la persona che ha problemi di udito rischia veramente di essere meno efficiente, meno produttiva. Per arrivare agli anziani che chiaramente si isolano e non hanno più autosufficienza hanno bisogno di un supporto, di un abbadante, questo è un costo altissimo per la società. Ormai possiamo dire che avete anche un rapporto stabile con l'OMS, porterete questo manifesto che è stato firmato da tutti a Roma, a Ginevra nella sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che intanto vi ha mandato un riconoscimento prestigioso. Ma sì, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la sede di Ginevra e con le persone che si occupano dei problemi di udito abbiamo un rapporto ormai stabile di corrispondenza, di applicazione, tra l'altro siamo diventati ufficialmente i traduttori del materiale OMS in Italia, quindi l'italiano ce ne occupiamo noi e poi anche diffondiamo, ecco questo è il certificato che abbiamo ricevuto appunto per aver appoggiato l'iniziativa e replicato in Italia alla giornata mondiale dell'udito, facciamo parte del World Earing Forum a livello mondiale, ecco questa è sicuramente una prospettiva molto alta che ci stimola molto, ci dà dei contenuti con una prospettiva veramente altissima e per noi è un grande onore e sicuramente un grande stimolo. Anche quest'anno la giornata dell'udito e tutta la campagna di sensibilizzazione ha un suo testimone, l'attore, il noto attore Antonello Fassari che proprio a Roma ha ricevuto il premio, il riconoscimento di ambasciatore della prevenzione per il 2019, l'abbiamo intervistato. Beh da oggi comincia una nuova vita, una carriera da diplomatico? Eh per fortuna sono contento anche perché sono ambasciatore di una iniziativa sulla prevenzione dell'udito che è molto, che fra l'altro di cui non conoscevo i numeri, cioè sapevo che questa storia per esempio delle cuffiette dell'alto volume nell'orecchio fosse una cosa insomma un po' pericolosa ma non pensavo che i dati fossero questi. Adesso insomma io ho una mia teoria che non basta più nulla, quindi la musica se deve arrivare a 10 no, deve arrivare a 20 e così per tutto il resto della vita, cioè è una forma assurda di consumo. È vero che è cambiata la musica rispetto alla mia generazione, è vero che non è più una musica melodica, quindi non è più una musica da ascolto ma si dice una musica da sballo. Però ragazzi, sto sballo poi lo pagate, ma lo pagate pesantemente, pesantissimamente. Quindi direi di abbassare un po' questi volumi oppure per esempio condividere la musica insieme, dico dentro casa perché nelle discoteche mandano, ecco per esempio forse si potrebbe proibire questi eccessivi decibel, non mi vengono altre parole, nelle discoteche perché anche quelli fanno malissimo. Io sono entrato una volta per lavoro, sono uscito immediatamente, cioè il mio dito non ce la faceva, non li sopportavo. Quindi andrò in giro il più possibile a dire ragazzi state attenti con queste cuffiette perché così non si va da nessuna parte, insomma ci si rovina la vita. Allora intanto si è preso un bel incarico Antonello Fassari, andare in giro con l'uovo, l'uovo è il simbolo della fragilità del nostro sistema uditivo, dottor Menzietti. Sì, abbiamo pensato di premiarlo come facciamo ogni anno, prima di lui c'è stato Lino Banfi, Bruno Vespa, altri personaggi famosi che intendiamo coinvolgere appunto per far arrivare il nostro messaggio fino nelle case degli italiani, perché ripeto, altrimenti se siamo solo sul piano scientifico non riusciamo probabilmente ad arrivare, invece vogliamo essere così popolari. E la nostra giornata, rivedendo anche le immagini, in effetti si differenzia dalle giornate che organizzano un po' in tutto il mondo, torno sull'OMS, perché poi il nostro manifesto, il nostro report verrà inserito appunto nell'elenco delle celebrazioni a livello mondiale e quando andiamo a scorrere dalla A alla Z tutte le nazioni del mondo, vediamo che l'Italia probabilmente riesce a differenziarsi, perché in altri paesi fanno dei manifesti o fanno magari delle manifestazioni, come dire, degli incontri, ma sono davvero dei numeri molto molto bassi, invece noi riusciamo a coinvolgere tutti dal testimonial al più alto grado istituzionale e scientifico e questo secondo me è il risultato vincente. Nella due giorni, perché quest'anno c'era anche questa novità, la giornata dell'Udito, ma anche il giorno prima credo, quindi due giorni avete fatto quest'anno di giornata dell'Udito, una doppia giornata, una novità. Questo per dire che nella due giorni che c'è stata al Ministero della Salute non solo specialisti, ma sono stati protagonisti anche le associazioni degli utenti che hanno potuto incontrare gli specialisti e confrontarsi con loro, portare alla loro attenzione le loro istanze. Noi abbiamo intervistato Domenico Pinto, che è il Presidente nazionale dell'Asi, che sta per Ascoltiamo la sordità insieme e noi ascoltiamo Domenico Pinto. Arrivano dei segnali molto importanti, oggi riusciamo a curare la sordità, perché dopo le protesi diciamo che c'è una percezione uditiva che non ha un buon recupero, nel senso che le cellule ciliate non ci sono e segnali dei centri sono molto importanti, perché oggi possiamo curare la sordità, dopo le protesi abbiamo un ausilio come l'impianto cocleare, che va a ripristinare il sistema uditivo per avere una buona percezione. Significa che i bambini che nascono sordi con sordità profonde, oggi grazie alla scienza, agli specialisti, possiamo recuperare e dare una buona percezione uditiva. Questo tavolo romano, mi sembra di capire, serve anche a fare un po' squadra tra tutte le associazioni che si muovono sul territorio in difesa di uno stesso obiettivo. Sì, ieri c'è stato un incontro storico, un incontro storico molto importante, lo dobbiamo sottolineare, che significa all'interno del Ministero, grazie all'invito anche di non l'ascolto, ma con la regia di ASI, siamo intenti, come dire, sottoscriviamo un protocollo di indesa per difendere i diritti delle persone con deficit uditivo, tutti uniti sullo stesso intento, tutti abbiamo gli stessi bisogni, ma dobbiamo parlare con un'unica voce all'interno delle istituzioni. Che risultati avete ottenuto con le associazioni degli utenti, Mezzetti? Sicuramente il grande risultato è stato appena citato, storico, di riunire queste 20 associazioni in una sala, farli parlare, farli interagire e cercare di trovare dei punti in comune, tanto che poi si sono accordati ed è stato veramente bello vederli, probabilmente per la prima volta tutti insieme. Le associazioni servono, abbiamo avuto questa grande opportunità di averle con noi, perché umanizzano, se vogliamo, il problema e ci portano veramente alle istanze delle persone che hanno problemi di udito e ci fanno capire quanto a volte può essere anche difficile viverlo il problema, altrimenti poi parliamo solamente, facciamo teoria ma non incontriamo la pratica. Averle lì ha portato un messaggio veramente importante. Per il futuro c'è la possibilità di coinvolgere altre associazioni o le avete contattate tutte? come si può allargare il giro e il tiro? Continueremo così, nonno ascoltami è aperto a tutti, invita tutti e fa sì che tutti possano salire sul carro della prevenzione, perché più ne siamo meglio è l'unione fa la forza e questa volta abbiamo dimostrato ancora una volta che insieme si vince e siamo tutti uniti per la prevenzione. Anche nel campo dei disturbi uditivi il futuro passa obbligatoriamente per i passi in avanti che fanno la ricerca e le nuove tecnologie. Su questo tema abbiamo intervistato il dottor Corrado Canovi che è il segretario dell'Associazione Europea degli Audioprotesisti. Ricerca e progresso vanno avanti da un punto di vista tecnologico anche in questo campo? Sì, il nostro settore è quello dell'audioprotesi che investe più del 7% dei propri fatturati nella ricerca e sviluppo dei prodotti ed oggi siamo in grado di avere sul mercato disponibili apparecchi acustici che vanno ben oltre la capacità di recuperare la funzione uditiva persa. Sono prodotti che iniziano ad avere in sé device interessanti per esempio l'analisi dell'equilibrio o addirittura spingersi fino a diventare device che possono permettere di produrre rapidamente la traduzione in lingue straniere, fino a 70 lingue. Quindi non complicati da utilizzare per una popolazione anziana? No, la complicazione è uno degli obiettivi principali da risolvere, cioè deve essere facile l'accesso, facile l'utilizzo e come dire anche la conoscenza, la padronanza dello stesso device è permesso da queste nuove tecnologie che ormai sono veramente automatiche. L'ultima intervista che vi vogliamo proporre è quella riguardante la soluzione per i casi più gravi, dunque non solo protesi acustiche ma per i casi più gravi per le persone che hanno i disturbi uditivi più seri c'è il cosiddetto orecchio artificiale elettronico. Noi abbiamo intervistato Carlo Martinelli che è il General Manager della Cochlear. L'impianto cocleare è una storia lunga quanti anni e si può tracciare un bilancio? Una storia lunga poco più di 30 anni perché l'impianto cocleare moderno è stato inventato dal professor Clark, fondatore di Cochlear poco più di 30 anni fa, e il bilancio è assolutamente positivo. Basti pensare che in questi anni oltre 300.000 persone nel mondo hanno oggi un impianto cocleare che gli ha permesso nella maggior parte dei casi di recuperare pienamente o in maniera sufficiente l'udito per un tipo di sordità o di pocosia grave e profonda che fino a pochi anni prima non era trattabile. Non si tratta di una cura, si tratta di un ausilio che però permette effettivamente di tornare a sentire e quindi recuperare tutti quegli stimoli che permettono di vivere in maniera integrale la vita sociale, ma non solo. È oramai assodato che l'ipocosia e la sordità possono essere legati al decadimento cognitivo e quindi un corretto trattamento così come una corretta prevenzione permettono anche di ridurre l'incidenza di questo tipo di patologia. L'impianto cocleare è qualcosa che non esiste in nessun altro campo, è l'unico organo di senso artificiale che oggi esiste al mondo. Con la foto di gruppo che è stata scattata in conclusione dalla giornata dell'udito e vi renderete conto di quante persone hanno partecipato a questo evento, adesso la mettiamo in onda. Eccola qua, vado per concludere dal mio ospite, il dottor Mauro Menzietti. Questa è la foto di gruppo di quest'anno, quarta edizione, siete già proiettati verso quella dell'anno prossimo, la quinta? Sì, sicuramente già stiamo lavorando. Quelle che vedete nella foto di gruppo non sono persone normali, ma sono rappresentanti, protagonisti della comunità scientifica del mondo dell'udito. Quindi sono tutte persone chiave che portano valore alla nostra giornata, ma portano soprattutto valore ai messaggi di prevenzione. Prevenzione, continuiamo a dirlo, a tutte le età e a tutti i livelli. Prevenzione significa informare, significa diagnosticare precocemente, significa riabilitare precocemente, o con protesi acustiche, o con impianti cocleari o con altri sistemi che il mondo medico ci offre. Stiamo organizzando già la decima edizione, quest'anno un compleanno. Siamo partiti da Pescara appunto nel 2010, ed è un grande onore, un grande orgoglio quest'anno vedere oltre 50 piazze aderenti, 18 regioni e un'organizzazione veramente enorme, perché sono tantissimi ospedali che scendono in piazza, tante persone che lavorano in questa organizzazione, e tante persone, tanta gente che si mette in fila con pazienza per incontrare il proprio medico, per avere un messaggio appunto di prevenzione. E invece la quinta giornata dell'udito, che sarà il prossimo marzo, 2020, 2020, e chiaramente sarà un appuntamento sempre più organizzato e sempre più strutturato. Intanto, vi avete ricevuto, ottenuto una grande soddisfazione, perché questa imponente campagna di prevenzione ha toccato le corde, diciamo così, del Presidente della Repubblica, che vi ha inviato una medaglia di riconoscimento per quello che avete fatto. È un grande onore per noi aver ricevuto questa medaglia come testimonianza, come garanzia probabilmente di quello che stiamo facendo e come premio, perché c'è scritto nel testo, nella lettera, proprio un premio di rappresentanza, per noi un grandissimo onore. Significa che da quella prima piazza di dieci anni fa, in cui sostanzialmente ero solo, adesso ho l'aiuto anche del Presidente e abbiamo l'aiuto dell'Italia intera, che si sta schierando contro una patologia troppo spesso trascurata, una patologia che a questo punto, possiamo dire, non è più dimenticata, perché dopo dieci anni abbiamo lasciato, cominciamo a lasciare il segno, grazie anche a trasmissioni come queste, momenti di informazione così importanti, sicuramente riusciamo, tra virgolette, a salvare della gente dall'ipocusia. Si sarebbe mai aspettato dieci anni fa che sarebbe esploso tra le mani? No, sicuramente no, sicuramente no, però è grazie a tutti, grazie all'aiuto di tutti che riusciamo a essere così efficaci. Grazie, grazie al Dottor Mauro Menzietti, fondatore di Nonno Ascoltami, Udito Italia, nonché Presidente nazionale dell'ANA, che è l'Associazione Nazionale Audioprotesisti, con lui abbiamo parlato della giornata nazionale dell'udito che si è svolta a Roma, abbiamo parlato soprattutto dell'importanza di fare prevenzione nel campo dei disturbi uditivi. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Alberto Capo per le riprese e il montaggio, Francesco Specchiuli in Regia, Andrea Di Fabio in Post Produzione, grazie a voi telespettatori per averci seguito con affetto e attenzione anche questa settimana. Ci vediamo tra 7 giorni esatti, stessi orari, naturalmente tratteremo un altro argomento. Grazie e arrivederci.